Ho preso un altro spuntino perché quell'altro era molto buono e particolare. Guardate questa. Proprio se è tipo... Mi sono appoggiato qua sui sacchetti. Se vado a mangiarlo per voi. Piccolo, secondo spuntino qua al tempio dei 10.000 Buddha. Spuntino vegetariano. Buono. Se è tipo di pomodoro... Curry e altre cose. Niente male. Lo volevo far vedere. Almeno ho qualche piatto un po' particolarino. Intanto c'è il signore di prima. Un po' comosetto. Secondo spuntino vegetariano. Tempio dei 10.000 Buddha. Venite a visitare il mio sito www.marcotoni.it e al prossimo video da Hong Kong. Ciao ciao.